Siamo a Villanova Toschegu, la sagra dell'asparago. Abbiamo come primo piatto il risotto agli asparagi, vero? Poi i ravioli e qui invece? Il fritello sempre con l'asparago e poi il pain d'orao lo chiamiamo noi. Ma lei se ci ha dato sempre lo metto. Sì, sì. Bene, allora tutto buono, complimenti. Il vino da dove viene? Da Zara? No, aspetta, come si chiama? Quella cantina lì? Uselus. Eh beh, è ultima, conosco.